Si sta facendo molto nel campo della formazione. Parlo per quanto riguarda il settore delle edilizie, per esempio abbiamo lo scorso anno come Comitato Parietatico di Edile fatto 235 corsi a più o meno 2150 lavoratori. Tenga conto che il Comitato negli ultimi 30 anni ha fatto un monte totale di 535.000 ore di formazione. Claudio Corarati, Presidente CNA ma anche fondatore di una società di consulenza sulla sicurezza sul lavoro, dice che si devono coinvolgere non solo i dipendenti ed imprenditori ma anche i committenti e i professionisti. I lavori a volte non vengono aggiudicati non tanto per la tematica del prezzo o della qualità ma perché nessuno riesce magari a accettare tempi molto brevi di realizzazione. Significa che la cosiddetta fretta, cioè noi traduciamo sovrapposizione di lavorazioni, è oggi un grosso problema che può incidere non poco su questa tematica importante. La cultura della sicurezza però deve essere un comportamento costante dice ricordando che gli infortuni in casa sono quattro volte di più di quelli sul lavoro. In questo caso credo che la provincia è necessario che dedichi le risorse raccolte con le sanzioni proprio a creare cultura, promozione alla cittadinanza intera e non solo mirata solamente su quello che è il luogo di lavoro. Più cresce questa cultura e meno c'è bisogno di controlli, dice che potranno così diventare sollecitazioni a mettersi in regola in fretta più che sanzioni repressive. Grazie. Grazie.